Buongiorno, la sinestampa di oggi sabato 12 agosto, vediamo quali sono i temi dei giornali. Ovviamente sull'ONG si continua a discutere, però la cosa più interessante di oggi è l'intervento di Laura Boldrini, numero 3 della nostra istituzione repubblicana, che oggi riesce in una lettera scritta a Repubblica, riprendendo anche il pezzo di Mauro, ma scrivendolo molto peggio, riesce a dire la seguente frase, che io non potevo, l'ho dovuta leggere 4 volte per credere che veramente l'avesse scritta. Le ONG sono oggetto di indiscriminate campagne denigratorie, con il Presidente del Senato, Grasso, con il Presidente della Camera, Boldrini, con Repubblica, che non mi sembra l'ultimo dei giornali arrivati, che li difendono, nonostante le carte, nonostante tutto quello che sta emergendo sull'attività delle ONG. Non ci credete? Allora, le campagne denigratorie le fanno forse i magistrati? Oggi il giornale continua per la seconda volta, meritoriamente, io devo dire che fa un lavoro straordinario Fausto Biloslavo e il giornale, nel pubblicare le carte segrete della Procura di Trapani. E oggi c'è di tutto, c'è di tutto in queste carte segrete. C'è tutto quello che la gente sotto copertura della polizia guardava da Save the Children, della nave dei Save the Children, su quello che avveniva nella nave Juventa, la quale sostanzialmente si mettevano d'accordo con i trafficanti sulla consegna degli immigrati. Ma pensate un po', l'ultima volta che testimonia l'agente sotto copertura, cioè un poliziotto, dice che il barcone che portava questi migranti era il KK che era stato appena usato due giorni prima, cioè come funziona? I trafficanti si avvicinano alla barca, dicono alla nave delle ONG, dicono guarda molti portiamo 150 persone, portano 150 persone, riprendono il gommone con cui l'hanno portato, i motori con cui l'hanno portato e ritornano a Tripoli o nelle coste libiche e rifanno un nuovo carico. Secondo voi questo non è favoreggiamento del traffico di immigrazione? Non lo so, se non lo è questo ditemi voi che cosa lo sia. E questa sarebbe una campagna denigratoria nei confronti dell'ONG. Michele Essin è fantastico oggi sul giornale, devo dire che su questo il giornale è un passo avanti agli altri, ovviamente gli altri se ne fregano, ma mi ricordo tante volte il giornale fa campagne di questo tipo che non vengono ascoltate, sull'ONG ovviamente è iniziata per prima, ma mi ricordo anche la questione di Fini che oggi mi sembra che abbia qualche problema giudiziale sulla casa di Monte Carlo. Il giornale ogni tanto viene preso come dice il giornale, ma sentite Michele Essin, dice io riconosco quelli di Medicina e Senza Frontiere da 33 anni, da quando mi sembra Michele Essin ricorda l'intervento di Medici Senza Frontiere in Birmania dove nessuno interveniva e non mi sarei mai aspettato il loro comportamento in questo modo nel Mediterraneo, cioè il racconto di un, come possiamo dire da parte di Michele Essin, di un fan tradito. Bel colpo secondo me oggi della Lodi sul Libero, della Cristiana Lodi sul Libero che intervista Ricci che è l'altro grande accusatore dell'ONG perché era il responsabile della sicurezza nella barca di Save the Children che quindi non faceva parte dell'organizzazione Save the Children ma era lì proprio per garantire la sicurezza come contractor privato e anche lui racconta delle cose incredibili. Ovviamente è stato licenziato, dice lui e la sua licenzia di contractor da queste navi perché non volevano stare zitti sui crimini e i reati che venivano perpetrati durante questi supposti salvataggi, che tali non erano perché non si tratta di salvataggi, si tratta di consegne di esseri umani. Bellissima, oggi il ritratto di Giancarlo Perna fatto e dedicato a Saviano, uno di quelli che non partecipa a questa indiscriminata campagna denigratoria della stampa, voglio capire che sostanzialmente è un pezzo contro il giornale perché con lo stesso tono con che aveva usato il direttore dell'Avvenire che ci aveva detto che eravamo del giornalacci fino a quando il vescovo non l'ha preso per l'orecchio così ha detto Tarquinio, che sta di Tarquinio? Vabbè, però così alla Boldrini non li fa nessuno ovviamente, noi giornalisti siamo degli impiegati. Il ritratto di Perna su Saviano è stupendo perché trova le parole giuste che mi erano sempre sfuggite per definire il fenomeno Saviano. Saviano è come quegli artisti contemporanei che sono pompati dai mercati d'arte e i mercati d'arte devono assolutamente tenerli in vita, dopo che hanno fatto i primi due o tre quadri, devono sempre prima farne un effetto rarità, poi dargli un'aura di eccellenza, poi se scompaiono scompaiono, poi se ritornano in uno stato d'arte, insomma è esattamente il fenomeno dei mercanti d'arte che prendono un brocco e lo fanno diventare, per un fuoco di paglia che può durare qualche anno però, lo fanno diventare un grande artista. Stessa operazione è stata fatta su Saviano da Repubblica e da Ezio Mauro. Intervista molto interessante di Lorenzo Cremonesi oggi su Repubblica ad Aftar che dice una cosa non interessante perché nessuno di noi la dubitava, cioè non si bombardano le navi italiane che entrano in acque libiche anche perché lo faremo con il solito rispetto che c'hanno gli italiani nei confronti delle acque altrui, ma Aftar dice una cosa che secondo me non bisogna dimenticare, dice guardate che gli accordi fatti da Minniti sulle coste libiche, sulle tribù, sono pagliativi, servono a poco, dice Aftar una cosa molto verosimile, anche se poi vedremo che si vuole far pagare, e cosa dice il generale Aftar che governa la Cirenaica, tre quarti della Libia e da Tobruk decide le sorti di una parte fondamentale organizzata della Libia? Dice Aftar guardate che se voi non controllate le coste fate sì che gli immigrati dell'Africa restino in Libia e noi non ci stiamo, noi vogliamo che siano controllati i confini a sud, che sono 4000 km di confini a sud della Libia del deserto libico e da lì che arrivano tutti gli immigrati dal Niger, dal Sudan e dagli altri paesi, è lì che dobbiamo controllarli, ho detto a Macron, dice Aftar che mi servono soldi, mezzi, truppe, droni, armi, munizioni, camionette per poterle controllare, quanto ti serve? 20 miliardi, Aftar ha fatto il conto, 20 miliardi ti serve per poter controllare i confini sud, è ragionevole che si debbano controllare i confini sud e non quelli a nord sulle coste nei confronti del Mediterraneo perché se no si tengono loro gli immigrati e stanno da capo a 12, anche se io immagino che se non si permettano agli immigrati di arrivare in Europa chi cavolo si pensa di andare in Libia? Ma secondo me nessuno, ma comunque con questa scusa Aftar vuole 20 miliardi e quando il giornalista giustamente dice ma sono tanti soldi dice beh insomma poco rispetto a quanto l'Europa ha dato al suo compagnuccio Erdogan in Turchia per poter risolvere il problema di quella rotta lì che è la Balcanica, in realtà in quel caso si tratta di 6 miliardi ma dice in Libia ne passano molti di più e soprattutto tutta l'Europa è interessata a bloccare la Libia, quindi se volete interessante l'intervista ad Aftar per chi è appassionato di queste questioni, non sono ancora appassionato finché non saltano le bombe sempre che saltino sulla questione della Corea del Nord e delle minacce e dell'escalation tra Trump e Kim Il-Chu o come cavolo si chiama quel bamboccio che però siede su molte testate nucleari e pare su una cinquantina di sottomarini addirittura, due interviste che vi segnalo oggi, una abbastanza interessante di due pagine su Luca Cordero di Montezemolo che si racconta alla vigilia dei suoi 70 anni con Benny Casadei dei Lucchi e l'altra Fucsas di Francesco Merlo, solo una cosa mi chiedo di Fucsas, l'uomo che ha fatto quell'incredibile nuvola che è costosa e inutile a Roma ma non è un problema suo, è ovviamente il committente, la nuvola è anche di per sé bella, ma Fucsas deve essersi bevuto il cervello o pippato qualche cosa di troppo quando mi parla di un fascio di luce che parte da San Pietro o da qualche posto lì vicino a San Pietro e che irradia le macchette se è bevuto o cambia pusher oppure Francesco Merlo fagli una censura, un fascio di luce sembra la spada di fuoco di Verdone, il fascio di luce di Fucsas che parte, veramente deve cambiare pusher, quello che non dobbiamo cambiare pusher siamo noi forse perché ovviamente quest'estate, io me lo sono chiesto perché oggi tutti i giornali riparlano di Alfano, Alfano a dispetto di quello che noi pensiamo, del fatto che è stato il ministro degli interni più inutile del mondo, del fatto che non si è pervenuto come ministro degli esteri, del fatto che il suo partito brancoli sempre su un 2-3%, che all'interno del suo partito se ne vadano via le persone, che litighi con lupi o con gli altri, ma questo Alfano è un fenomeno, prendiamoci le cose per quello che sono, uno che non conta nulla o apparentemente non conta nulla sta ancora là che fa la fighetta e tutti quanti che lo cercano, ma come? Bisogna imparare, bisogna imparare da Alfano, lo dico un po' eronicamente ma anche non, visto che questo mese si è parlato soltanto di Alfano e del suo ruolo in Sicilia, ma Alfano, Alfano, così siamo ridotti, va bene, le uova contaminate, vi segnalo soltanto il pezzo di Riccardo Pellicetti secondo me sul giornale in cui dice scusate ma noi l'Unione Europea ci fa un mazzo così sulle questioni agricole e poi dopo gli olandesi è da novembre che hanno contaminato le loro uova e noi lo sappiamo dopo 6 mesi, ma spiegateci come funziona, ma che cacchio stiamo a fare? Ci rompete le balle sulla sanità alimentare, l'Italia è uno dei paesi più sicuri del mondo e ci rompono le balle e poi gli olandesi, i belgi ci prendono per i fondelli sulle loro uova contaminate che detto per inciso oggi a leggere tutti i giornali si capisce che questa contaminazione agli esseri umani fa poco o nulla, è uno dei soliti principi di precauzione dell'Europa, ma che esiste, è una legge che se fosse stata violata dagli italiani ci avrebbero fatto un mazzo tanto. Molto interessante, ve lo segnalo anche se può apparire un po' tecnico, l'apertura del sole 24 ore di oggi sui PIR, tutti sono affascinati da questi PIR per il semplice motivo che sono dei piani di investimento del nostro risparmio che vengono molto pompati da Mediolanum, da Azimut, da Banca Intesa, da tutte le grandi banche per un semplice motivo, è molto sano e cioè che loro, se noi teniamo questo investimento per 5 anni, non paghiamo una tassa che si chiama la tassa sulle plusvalenze che è il 26%, quindi insomma è un grande vantaggio e poi questi soldi che noi diamo a queste banche vanno direttamente per il 70% agli investimenti delle piccole imprese, quindi cosa succede? Noi non paghiamo le tasse, le piccole imprese hanno un canale di risorse che altrimenti forse le banche non gli avrebbero dato, in 6 mesi sono stati raccorti 5 miliardi, i risparmiatori hanno tutto il vantaggio ovviamente di non pagarci le tasse e le piccole imprese hanno questo flusso di denaro, ma c'è un problema grande come una capanna, oggi il sole 24 ore lo dice con prudenza, ma bisogna stare attenti, che siccome sono arrivati in 6 mesi 5 miliardi dalle piccole imprese italiane quotate nel mercato star o nel mercato AIM, cioè due mercati più o meno regolamentati, sapete che è successo? Che queste società sono cresciute mi sembra del 21% l'AIM e il 28% le società quotate allo star, cioè esattamente il doppio di quanto sono aumentati i titoli di borsa delle società normali, ENI, Telecom o anche delle società di Wall Street, cioè c'è una specie di attenzione furibonda nei confronti di queste piccole imprese italiane, ma indipendentemente dalla loro qualità, insomma la faccio semplice, state attenzione, fate attenzione perché PIR è uno strumento straordinario, è una cosa giusta, è una buona intuizione, il rischio che abbiano investito troppi soldi su un segmento quello dei piccole imprese italiane che sia oggi, diciamola semplice, in bolla, poi fra 6 anni o fra 6 mesi non ci lamentiamo quando questi titoli perderanno di valore, quindi da leggere con attenzione per chi ha investito soldi nei PIR l'approfondimento del Sole 24 ore che è comunque l'apertura. Ultima cosa che vi segnalo, Macron, fantastico, oggi il Corriere della Sera, Nava mi sembra, dice che ormai è sceso dopo i primi 100 giorni a un indice di gradimento inferiore a quello che aveva dopo i primi 100 giorni di Sarkozy e Hollande. Comunque ricordatevi quando leggete qualche cosa oggi sull'ONG ricordatevi le parole della Boldrini, si tratta di una campagna indiscriminata di tipo denigratorio. Ciao.